Vuoi commentare questo risultato? Ormai sono le 4 meno un quarto e sembra evidente il raggiungimento del quorum e la vittoria del sì. Il sì era scontato, addirittura i primi dati sono qualcosa di bulgaro, ma questo lo sapevamo, la cosa importante è aver raggiunto il quorum e questo è quello che viene confermato. Già ieri si era visto, ne avevamo avuto un anticipo, adesso il dato è confermato, si sta assestando, siamo contenti perché è una vittoria veramente di tutti, di tutte le persone, di tutti i comitati, di tutte le realtà che si sono impegnate in questo senso. È da parte della campagna repagandale che è molto impegnativa, partecipata, ma oggi il risultato è una valutazione enorme. Beh, assolutamente, ci siamo riappropriati di un bene per quanto riguarda l'acqua che ci appartiene, che appartiene a tutti, ma ci siamo anche riappropriati di uno strumento che è quello dei referendum che deve ritornare in mano ai cittadini.